Non ce l'ha fatta Thay Lim Hao Nam, il bimbo vietnamita di 10 anni caduto in un pilone di cemento profondo 35 metri nella provincia di Dong Thap nel sud del Vietnam. Il piccolo era bloccato da quattro giorni a decine di metri di profondità. Purtroppo nonostante gli sforzi dei soccorritori non c'è stato nulla da fare e oggi il vicepresidente del comitato popolare della provincia di Dong Thap ha dichiarato la morte.